Buona serata a tutti quanti, a tutti coloro che sono collegati per questo nuovo webinar sui dialoghi ai tempi del Covid e dell'economia civile, promosso dalla Scuola di Economia Civile e dalla Nuova Scuola Cooperativa di Federcasse. Il tema che questa sera vogliamo affrontare è il tema dell'impatto sulle imprese del coronavirus e quindi vorremmo capire insieme con i nostri ospiti quali sono le prospettive e gli impatti sulle imprese. Quindi se si tratta di un kronos fondamentalmente, cioè di un tempo che deve passare e di poi tornare a fare ciò che facevamo prima nel migliore dei modi possibili o se si tratta invece di un kairos, di un'opportunità, di una grande opportunità in cui cogliere spunti per non essere solo resilienti magari, ma anche essere antifragili e costruire nuove opportunità. Parliamo di questo con Andrea Granelli, fondatore di Canso, e con Renato Ruffini, che è professore ordinario di organizzazione aziendale all'Università di Milano. Ho chiesto ad Andrea Granelli di darmi qualche suo titolo di presentazione. mi ha mandato una cosa meravigliosa, condivido con voi e leggo velocemente una sua brevissima presentazione che lui mi ha inviato. Ecco, la presentazione di Andrea Granelli può essere questa, questa slide. È stato per alcuni anni in McKinsey e poi ha fondato con Nicky Grauso Video Online, è stato fondatore CEO di Team.it, capo della ricerca Telecom Italia, è presidente per alcuni anni dell'archivio storico di Olivetti. Penso che gli faccia piacere anche dire che insieme con Flavia Truppia ha fondato Perlare, l'associazione Perla Retorica, a cui tiene particolarmente. È attivo nel campo delle business design, del supporto continuativo agli start-upper e alle start-up, e nel campo della leadership e della valutazione delle competenze dei top manager. Non prendo altro tempo e passo subito la parola a Andrea, che ci introduce nell'argomento del nostro webinar. Grazie. A te la parola, Andrea. Grazie a te, Alberto. Buongiorno a tutti, anche se appunto non vi vedo, ma vi immagino. Diciamo, a me il compito di introdurre questa riflessione che abbiamo chiamato imprese che imparano, imprese che cambiano, per domandarci che cosa sta capitando, diciamo, e come le imprese stanno o dovrebbero reagire. Rispondendo alla introduzione che ha fatto Alberto, sarà probabilmente un misto di Kronos e Kairos, nel senso che certamente c'è un tempo che sta divorando, sta divorando delle aziende, sta divorando perché Kronos è il tempo che mangia, il tempo pubblico, e però dobbiamo cogliere l'attimo, quindi la riflessione effettivamente è proprio questa. Allora, io adesso ho una presentazione che volevo condividere con voi, che mi accompagnerà. La vedete? Perfetto. Perfetto, molto bene. Quindi poi naturalmente la presentazione, che è una traccia, la lascerò per chi sarà interessato, diciamo, ad approfondire. Ci accompagna un po' in questa riflessione veloce, dove io cerco di darvi una prospettiva, chiaramente molto personale, che si domanda che tipi di cambiamento stanno capitando, se ci sono dei cambiamenti appunto più resilient, che al di là della fase acuta della crisi, una volta superata questa sezione, è anche drammatica. Io poi, come dire, sono di origine milanese, i miei parenti vengono da Bergamo, quindi appartengo a un mondo che ha vissuto il Covid in maniera particolarmente dura, oppure ci sono poi dei semi della novità. Ecco, questo se volete è un po' la riflessione che io farò. Questo c'è anche il mio curriculum, poi ne hai già parlato. Io volevo parlarvi di tre cose per inquadrare questo tema del cambiamento dell'apprendimento, cioè due driver che per me oggi caratterizzano i tempi moderni, i tempi futuri, cioè la mobilità ridotta e il digitale, e poi una qualche riflessione insieme, poi verrà commentata appunto dal professor Ruffini, eccetera, su quello che potrebbe essere una risposta delle imprese nell'adattarsi. Allora, quindi io sostengo che ci sono questi due, tra i tanti, situazioni anche molto problematiche, alcune le stiamo solamente toccando adesso, due grandi elementi di grande novità, secondo me, e cioè la mobilità ridotta e il digitale, che caratterizzano il futuro. Allora, il punto di partenza non può che essere una riflessione del grande Seneca, nelle sue meravigliose lettere a Lucilio, il grande educatore, il grande, diciamo, esperto di educazione remota, visto che lui usava le lettere per educare Lucilio, che dice, se non si conosce il porto di approdo, nessun mente favorevole. Qualsiasi riflessione noi possiamo fare oggi sulle competenze che serviranno, sui modelli organizzativi, non può prescindere da una nostra ipotesi sul mondo che sarà. Se non rischiamo veramente di costruire un mondo, o irrobustire competenze, o stabilire approcci al mercato, che poi non saranno coerenti. E quindi la prima parte della mia riflessione è condividere quello che per me è, diciamo, un elemento che caratterizza il nuovo. E sostanzialmente è questo. Cioè io credo che nel futuro noi ci sposteremo sempre di meno. Questo lo faccio come fatto aziendale, non necessariamente come fatto personale, e non entro nei movimenti individuali e neanche naturalmente nelle migrazioni, che sono un altro capitolo. Le aziende si sposteranno sempre di meno. Questo è, a mio modo di vedere, un fatto strutturale, che non è legato solamente alla pandemia, e quindi al distanziamento sociale, ma è legato a una pluralità di fattori che in qualche modo sono interconnessi. Allora, innanzitutto, purtroppo, io credo, come sostengono molti epidemiologi, che ci saranno altre, come dire, altre pandemie. Diciamo che oggi noi stiamo curando la fase acuta del Covid, sperando che non riparta naturalmente in autunno, ma diciamo non abbiamo rimosso le cause che hanno scatenato. E se guardiamo, questa è una simpatica slide fatta da Jazeera, una veloce e sinottica ricordo delle ultime epidemie, tutte tra l'altro di tipo zoonotico, quindi diciamo tutte causate dal prasmissione animale, vedete alcune sono note, alcune meno note, sono nomi inquietanti, ci sono stati. E secondo molti epidemiologi, il fatto che queste epidemie non siano diventate pandemie è stato un fatto puramente accidentale. Quindi il primo tema è che noi dobbiamo vivere con una situazione dove la dimensione pandemica è legata alla densità della popolazione, alla distruzione delle foreste, al tema alimentare, cioè molti fenomeni che ci saranno. E quindi il primo aspetto è, diciamo, la dimensione pandemica. Il secondo è che le infrastrutture di trasporto sono sempre più fragili. Non è solo il Ponte Morandi, questo è un ponte recentemente caduto, un paio di mesi fa in Toscana, l'incidente sul Frecciarossa ha bloccato i trasporti per un mese, gli aerei, le auto, quindi anche le infrastrutture di mobilità, e non è solo quella italiana, sono molto fragili. E poi ci sono gli scioperi, le sommosse. Io sono andato in Francia quando c'era il braccio con i gilets jaunes che hanno paralizzato la Francia. Spesso le sommosse e gli scioperi vedono i trasporti come luogo ideale su cui scatenarsi. E quindi anche questo è un ulteriore elemento che rende più complicato spostarsi. Per me l'Italia ridotta vuol dire che sarà più complicato e costoso spostarsi. E poi c'è il clima. Il clima impatta sempre più improvviso, che tra l'altro ha delle implicazioni molto forti. Questo è un caso che sta capitando frequentemente in Cina, dove si collega, si mischiano i temi climatici con i temi, diciamo, di inquinamento atmosferico, creando delle paralisi proprio dei trasporti, chiusura degli aeroporti, eccetera. Quindi anche il clima non aiuta nel trasporto. E poi, ahimè, anche il terrorismo. Il terrorismo ha scelto la mobilità come simbolo del suo attacco. Aere, i treni, eccetera. E quindi questi fenomeni, che quindi vanno un po' oltre il fatto del lockdown, che diceva, beh, c'è stato il lockdown, distanziamento sociale, ci spostiamo un po' come adesso, poi ritorneremo come prima. Ecco, la mia prima risposta alla riflessione di Alberto sul Crono, sul Kairos, è che secondo me non torneremo più come prima nella mobilità. E le aziende lo faranno per questi motivi, anche per il fatto che dovranno risparmiare, che alcuni hanno scoperto del bene e del male che con la smart work si può lavorare. Tutti sappiamo che appena c'è un po' di crisi le aziende tagliano subito le trasferte perché sono costi variabili, eccetera, eccetera. Allora, questo che cosa vuol dire per noi? Beh, sta cominciando a emergere alcuni temi. Alcuni temi che tra l'altro so sono molto cari a voi, sono molto cari a Elena a Granato. Per esempio, il tema che le campagne possono riacquisire un significato, i borghi, questa è una riflessione fatta da Rem Kulas che ha fatto anche una grande mostra. Adesso, al di là degli slogan che a me interessano meno, certamente questa idea che la densità urbana può essere problematica riporta una rilettura dei territori. Questa è una prima implicazione di questo tema della mobilità ridotta. Ma, diciamo, questo tema va collegato col secondo driver, per me importante, della Covid. Cioè, l'elemento che per me rimarrà un elemento strutturale. E cioè, possiamo ipotizzare che, o ritenere meglio, che il Covid ha creato un punto di passaggio. Prima il digitale era molto importante, era, diciamo, una grande opportunità, oggi è una necessità. Questo è un altro degli elementi scoperti, questo è una necessità per il lavoro, se non avessimo avuto il digitale, le scuole, la sanità, la protezione, non ci sarebbe stata. In una recente intervista, il papà, il fondatore, uno dei fondatori del, diciamo, di Intel, del World Wide Web, Tim Berners-Lee, ha proprio fatto una dichiarazione molto semplice nella sua chiarezza. Lui dice, l'epidemia del coronavirus ha dimostrato quanto il web è stato un ancora di salvezza. Cioè, che cosa sarebbe capitato se non avessimo avuto il web in questi mesi di lockdown? Tutto sommato, abbiamo potuto continuare a lavorare, i nostri figli hanno continuato in un modo o nell'altro a fare scuola, come dire, abbiamo avuto informazioni preziose per orientare i nostri spostamenti, come comportarsi di fronte al virus, eccetera. E quindi, questo tema del digitale è l'altro grande elemento di forte novità. Un digitale che è tante cose, non è naturalmente solo i social, il digitale che è una realtà molto articolata, fatta di social, di realtà aumentata, di droni, di stampa 3D, quindi il grande fenomeno del digitale è stato certamente potenziato. I fenomeni che abbiamo visto sono stati molti, diciamo abbiamo visto per esempio che molte realtà anche molto piccole sono sopravvissute anche nel commercio di prossimità, sono sopravvissute con l'e-commerce, con la costruzione a domicilio, abbiamo visto che nel momento in cui c'è stata la crisi, i primi mesi dell'anno, le cinque più grandi aziende del digitale sono cresciute come valore di borsa di una cifra che non si può neanche raccontare, quanto è grande, no? E quindi direi che questa dimensione del digitale ancora più centrale mi sembra un aspetto assolutamente critico. Ecco allora, ma di quale digitale stiamo parlando? Ecco secondo me sta emergendo una situazione che io vorrei condividere che è un po' più particolare che io chiamo e dopo la spiegherò meglio schermizzazione. Non è tanto secondo me quello che fa la differenza del digitale. Noi già prima lavoravamo in ambienti chi più chi meno, in ambienti molto digitali, utilizzavamo strumenti digitali, eravamo anche abituati a lavorare da remoto, chi lavora nelle multinazionali è abituato interagire con i colleghi che hanno 6-9 ore di fuso orario con il digitale. Non era quella la caratteristica. Per me la caratteristica più importante è proprio la schermizzazione. Ho voluto creare una specie di parola nuova, un neologismo, proprio perché per me lo schermo è il modo di interpretare questo fenomeno. Questa foto che vedete fa sì che lo schermo incomincia a essere così importante che anche il concetto dal vivo incomincia a essere schermizzato. Molta gente va ai concerti, questo è un concerto, e sono talmente grandi i concerti, c'è talmente tanta gente che di fatto anche se sono lì in presenza dal vivo vedono il cantante tramite un video e ascoltano la nostra musica tramite delle casse. Quindi questo concetto di mediazione, di mediatizzazione legato allo schermo, il fenomeno è molto più ampio. Abbiamo visto il Papa come dire nei momenti di lockdown usare lo schermo per manifestarsi. Ci sono fenomeni anche come questo ancora più estremi in cui nel concerto finale delle Olimpiadi a Londra è stata cantata una famosa canzone di Freddie Mercury facendo apparire l'inizio di Freddie Mercury ormai morto su un video. Quindi il video che restituisce anche libertà, che fa apparire persone che non ci sono più. Quindi il fenomeno della schermizzazione è secondo me il fenomeno più interessante su cui dobbiamo confrontarci. Tra l'altro, sempre per citare fatti molto innovativi, anche le messe, la messa pasquale è stata molto particolare perché ci ha insegnato un'altra cosa sul digitale, la messa come la via cruci, cioè che si possono fare eventi sostanzialmente dove non c'era nessuno ma di grande valore simbolico che permettono una grande fruizione. In particolare in questo caso vedete che la messa per chi l'ha vista dalla televisione ha visto dei particolari di San Pietro, in questo caso una vista dal Baldacchino, che non avresti potuto vedere se eri lì. Oltretutto c'era anche in tempo reale una traduttrice che parlava nel linguaggio dei sordomuti che permetteva a persone di ascoltare la messa e non avrebbe potuto sentire interpretare queste cose in presenza. Questo è un esempio reale di realtà aumentata che in qualche modo possiamo dire anche ribatte, dice la sua in maniera diversa rispetto alla famosa riflessione che fece Walter Benjamin nel suo libro L'arte nell'era della sua repubblicità tecnica parlando della fotografia dove dice quando l'arte si riproduce si perde l'aura, vale di meno, è un po' una coppia. Poi io vedo di più, sono più coinvolto, vedo cose che non avrei mai visto, ho visto dei particolari di San Pietro che non potevo vedere se ero in presenza. Quindi dobbiamo leggere questo tema della presenza assenza digitale dello schermo come qualcosa di più sofisticato che non presenza buono assenza cattivo, presenza ricchezza assenza deprivazione. Peraltro una frase molto interessante, una riflessione che ha fatto Lacan tempo fa sul desiderio, lui dice il desiderio è una presenza in assenza, cioè desidero qualcosa perché non ce l'ho, è un'assenza, ma se non avessi in parte una rappresentazione di quello che desidero non potrei desiderarlo. Ecco, penso che questo dialogo assenza-presenza ci debba far reinterpretare cosa vuol dire lavorare da virtuale, quindi in assenza, diciamo così, che è qualcosa di più sofisticato che non una semplice deprivazione della presenza fisica. E le tre dimensioni sono appunto mobilità ridotta, impatto sociale, recessione economica, l'attuale impatto economico e poi questo digitale tecnologico che sta comportando tre grandi sfide. una sfida dell'impatto sociale perché chiaramente devono interpretare i concetti di socialità e relazione, nuovi paradigmi economici, soprattutto delle piccole imprese per rinascere, costruendo anche nuove modalità di operatività e poi una cultura digitale per cercare di gestire questa onda del digitale senza esserne travolto. E quindi io, se volete, questa faccio come ipotesi, cioè l'obiettivo è proprio affrontare la schermizzazione, non solo remotizzazione, e far sì che sarà vera la malattia ridotta, nel futuro delle imprese la regola sarà l'assenza e non la presenza. E quindi io vedo una realtà aziendale futura sia di lavoro che di formazione dove la presenza non sarà la regola ma sarà l'eccezione. Io devo costruire un sistema digitale dove la presenza sarà ancora più importante come tutte le cose scarse e quindi costruire un meccanismo dove, e quindi lo smart work sarà fondamentale. Il problema non è se è meglio o peggio, il problema è che un leader, un talento non può degradare le sue prestazioni quando lavora in smart work. È un elemento in più, è una dote in più che deve avere. Leader che non saranno capaci o degraderanno completamente con lo smart work saranno meno efficaci. E questo proprio per le caratteristiche che dicevo prima. Allora, che cosa dobbiamo fare? Vado un po' velocemente in chiusura. Che cosa dovremmo fare per cogliere questo kairos, queste opportunità trasformative e soprattutto cavalcare il digitale che è la grande leva trasformativa senza essere travolti dal digitale. Allora, io credo che innanzitutto si tratti di costruire una cultura digitale e non un semplice addestramento. Noi troppo spesso parliamo di alfabetizzazione, facciamo fare la formazione ai fornitori, di fatto stiamo addestrando a usare procedure. Ecco, ci serve qualcosa di più profondo, una capacità di capire il digitale, capire le dimensioni trasformative, ma anche le dimensioni problematiche, anche gli impatti, anche le precondizioni. ci serve proprio un'educazione, qualcosa di più profondo. Quindi il primo tema educativo è puntare all'educazione digitale e non tanto uno semplice addestramento ad usare alcuni strumenti. E poi, la seconda sfida, proprio perché io credo che siamo all'inizio di un percorso nuovo, non dobbiamo limitarci a padroneggiare la nuova situazione, ma dobbiamo ripensare il modo di lavorare. La cosa più pericolosa è tradurre in digitale quello che facevamo prima. Facevo un seminario e faccio il webinar. È diverso. Dobbiamo cogliere e ripensare le cose diverse. Noi rischiamo di creare delle pallide imitazioni, diciamo, tramite il digitale di cose che facciamo prima, non cogliendo la dimensione trasformativa. La fase iniziale del digitale era automatizzare, fare meglio quello che facevo prima, la fase attuale è trasformare, fare diverso. Anzi, potremmo usare un'espressione, non usare la solita espressione di Miss Van Der Rohe e Less is more, ma usare quella di Peter Rams, che è il grande designer diciamo di Brown, che è stato il nome ispiratore di Hives, di Apple, che diceva Weniger Ad Erbesser, meno ma meglio. Il tema è trasformativo. Allora, in questo contesto io credo che sia molto importante diciamo, rischiare dei comportamenti che sono patologici. Io sto lavorando molto con le aziende sul tema dello smart work e stanno emergendo tre patologie, cioè un uso dello smart work forzato che senza essere stato ripensato dal punto di vista organizzativo crea dei comportamenti sclerotizzati. Il primo è gente che vaga, passa il tempo sulla rete, si collega, va sui siti, si aggiorna, molto pericoloso, vaga nel cyberspazio e mi ricorda naturalmente quel passaggio famosissimo che tutti noi ricorderemo del film di Nanni Moretti E c'è bombo quando la ragazza dice ma cosa fai? Tu ma io vedo, faccio cose, vedo gente, ecco molto spesso la gente quando racconta la sua esperienza sul digitale è questo, vaga navigando, saltando di qua e di là andando sui social, molto pericoloso. Secondo punto è essere preso dalla bulimia gestionale. Molti manager non capaci di coordinare dei team che non vedono, quindi sparpagliati sul territorio passano il tempo a fare riunioni, a verificare avanzamenti quando non ci sono le condizioni per verificare gli avanzamenti, a dare input continuamente paralizzando. Quindi questo tema della bulimia, anche qua ho usato un esempio cinematografico, Totò le Mocco, Totò che suona mille strumenti, è un grande rischio e quindi le figure più esposte in questo momento sono proprio i manager che sono stati più messi in difficoltà nel coordinare team che non vedevano, mentre molti manager navigano a vista, vedono le persone davanti, quindi hanno un loro modo molto fisico di controllare gli avanzamenti. E l'ultimo punto è non avere gli strumenti. Quindi per avere lo smart work ci servono strumenti, se non ho i contenuti, se non ho i documenti, molta gente è tornata in ufficio perché non aveva più le carte. Ecco, dietro una cultura digitale, uno smart work c'è proprio la veri contenuti e quello che io poi chiamo zaino digitale. Allora, da dove partiamo diciamo per costruire? Allora, io sostanzialmente vedo e vorrei condividere tre suggerimenti che vorrei dare oltre a quelli che possiamo immaginare classici di cose che vanno fatte, tre competenze nuove che secondo me vanno sviluppate in quest'era di mobilità ridotta con un'economia che sta cambiando radicalmente e con un digitale sempre più presente. più focus sulle soft skills padroneggiare la schermizzazione e poi lo zaino digitale. Sono concetti un po' nuovi quindi vado su tre temi se vogliamo un po' meno frequentati e allora il primo sono le soft skills sono fondamentali. In un'era della tecnica le soft skills sono più importanti di prima. In un famoso intervento Steve Jobs uno degli ultimi in questa bellissima foto dove lui già è molto magro malato diciamo è sotto un cartello una foto dove lui dice molto chiaramente Apple ha avuto il successo che ha avuto perché ha lavorato nell'incrocio tra tecnologie e arti liberali liberal arts soft skills quindi una delle più grandi aziende di tecnologia che dice usate le scompetenze umanistiche la cosa è incredibile noi siamo qua a inseguire la tecnologia lui dice attenzione le cose fondamentali sono proprio le scienze umane sono proprio le arti liberali e questo è il primo punto peraltro un altro grande personaggio Adriano Olivetti aveva fatto di questa riflessione un po' un suo punto di fede lui vedeva la tecnologia come molto potente ma ne vedeva le derive problematiche possibili non la pura cultura tecnologica il fondamentalismo tecnico e vedeva la cultura umanistica ancora una volta uso in maniera un po' ampia quasi come sinonimi anche se non lo sono naturalmente cultura umanistica liberal arts arti liberali e soft skill diciamo questa grande insieme di competenze che non sono professionali non sono tecniche sono legate all'uomo alla conoscenza dell'uomo alla dimensione etica al pensiero critico questo per me questo anche lui diceva attenzione sono fondamentali queste dimensioni e quindi le soft skill sono importanti forse mai espressione più sbagliata viene usata sono molto hard le soft skill sono hard per l'impatto che possono avere sono difficili da costruire difficili da perimetrare non sono soft non sono leggere forse è la leggerezza nel senso di Calvino ecco non la leggerezza nel senso della superficialità e quindi la sfida delle soft skill della tecne un altro concetto che certamente piacerà ad Alberto è questo la tecne in greco ha un doppio significato e sia una tecnica un metodo che si impara ma anche la capacità individuale artistica infatti si traduce anche come arte che ha l'individuo quindi devo conoscere un metodo ma devo superarlo queste sono le competenze che ci serviranno nel futuro la parte hard la faranno le macchine noi dovremmo governarle avendo competenze soft quindi dovremmo imparare la tecne e che cosa vuol dire imparare la tecne bisogna lavorare anche sulle mentalità sui cambiamenti di prospettiva non basta fare learning by doing imparare sul campo dobbiamo anche migliorare quello che facciamo anche gli animali imparano by doing l'uomo si domanda anche se ha imparato bene è migliore perché applica il pensiero critico e la riflessività quindi credo che dietro questo tema ci sia teoria pratica e pensiero critico avere il coraggio di dire ho fatto ma basta posso fare meglio questo è tipicamente umano oggi il pensiero critico è fondamentale nel lavoro nel digitale e quindi è il primo punto il secondo è la schermizzazione dicevo che per me è l'elemento più chiave dello smart work vuol dire che dobbiamo capire le metafore dello schermo lo schermo è tante cose per esempio come ci ricordava Sherry Tark una delle più importanti psicanaliste studiose di internet tanti anni fa nel 97 scrisse un libro molto importante la vita sullo schermo gli disse lo schermo vuol dire schermare è una protezione lo schermo ci scherma quindi innanzitutto e questo è quello che hanno capito gli haters che attaccano la gente dallo schermo perché sanno che lo schermo li protegge quindi lavorare in un ambiente schermizzato vuol dire anche capire le metafore dello schermo quindi che lo schermo ci protegge che lo schermo ci riflette noi quando siamo in videocomunicazione ci vediamo io mi sto vedendo quindi continuamente mi confronto con me stesso con la mia immagine ideale e questo tra l'altro consuma energia perché mi vedo ed è un elemento lo schermo riflette e tra l'altro riflette spento su questa metafora potente dello schermo che riflette una nostra immagine distorta è nato un grandissimo serial tv black mirror che proprio dice the future is broken il futuro è rotto perché nel momento in cui io spengo il video vedo me stesso ma vedo me stesso distorto appunto con questa immagine che fecevo vedere prima dove si sembra un quadro di bacon diciamo così e quindi questa dimensione esiste e poi per esempio lo schermo vuol dire ma come guardiamo lo schermo gli occhi seguono dei percorsi molto specifici se lo schermo è testuale vediamo abbiamo un movimento degli occhi come questo se per esempio un'immagine google abbiamo un altro pattern quindi se noi vogliamo comunicare tramite lo schermo dobbiamo anche ipotizzare come la gente legge i contenuti dello schermo dove indirizze le priorità degli occhi e quindi vedete che c'è una competenza importante che va costruita e poi chiaramente questo richiederà prossemica io devo abbucare lo schermo devo trasferire tramite questo rettangolo filtro piccolo e angusto le emozioni il linguaggio del corpo a cui ero abituato a utilizzare nell'ambiente fisico ma che il digitale mi scherma e quindi servono nuove competenze la voce l'immagine il ritmo lo sfondo quindi c'è tutta una nuova disciplina io me ne sto un po' occupando perché è un tema che i manager sentono molto di come posso migliorare le mie capacità per esempio usare il video non solo per fare webinar ma anche per negoziare anche per presentare progetti agli investitori anche per dare feedback scomodi ai miei collaboratori quindi anche con dimensioni emotive e forti devo avere capacità comunicative più profonde e devo capire le dinamiche del digitale e l'ultimo e vado in conclusione è lo zaino sostanzialmente perché è importante lo zaino la metafora dello zaino mi è venuta ricordando di un bellissimo film di George Clooney dove lui faceva il tagliatore di teste a me che girava il mondo e lui ha fatto un famoso discorso molto bello che si chiama discorso dello zaino dove un gruppo di giovani dice voi immaginate che partite per un grande viaggio avete uno zaino che cosa ci mettete dentro metteteci le cose importanti non troppe perché poi lo zaino diventa pesante le cose importanti allora lo smart work come posso fare smart work se non ho uno zaino come posso stare lontano dall'ufficio e partire per un viaggio senza avere le cose indispensabili e quali sono queste cose ecco questo è l'altro elemento oggi centrale di uno zaino infatti per me il passaggio non è solo telelaboratore smart worker che lavora nell'ufficio ma il nomade io mi sento un nomade digitale perché lavoro dovunque io posso stare un mese se posso vado a casa mia pantelleria e lavoro esattamente come se fosse nell'ufficio perché ho la mia biblioteca ho il mio zaino dietro allora questo zaino è legato a una riflessione che ha fatto un filosofo contemporaneo Dalbon che dice come il falegname senza strumenti e materiali non può fare nulla anche se è un bravo falegname il pensatore senza strumenti e contenuti non può fare nulla e quindi se noi non ci domandiamo che tipo di zaino abbiamo che contenuti utilizziamo in digitale noi rischiamo di non cogliere il potere dello smart work facciamo solo telelavoro remotizziamo delle attività invece il creativo deve poter fare questo e allora che cos'è questo zaino? è un insieme di strumenti ma è un insieme di applicazioni e soprattutto un insieme di contenuti allora il mio zaino che tra l'altro io ho costruito in quarant'anni della mia vita è fatto che è un grande contenitore digitale sulla rete dove ho detto tantissime cose è fatto che è questo che vedete è fatto di tre grandi componenti che per me saranno essenziali per il futuro smart worker che ribadisco sarà il paradigma di un modo di lavorare non esclusivo ma chi sarà bravo anche nello smart work sarà più efficace tre cose la biblioteca cioè i miei contenuti le cose che ho letto le cose che mi sono piaciute la mia memoria la mia immagine biblioteca perché ovviamente è fondamentale sia perché siamo noi la nostra identità come diceva la Jursenar sia perché i libri ci servono ma anche quelli magari letti vent'anni fa oggi ci servono e se non me li ricordo io tutti i libri che ho letto ho gli estratti li ho tutti sul sito quarant'anni delle mie letture sono tutte in digitale e me le porto sempre dietro poi ci sono i ricordi la seconda parte i ricordi di famiglia poi ci sono le foto di mia figlia le cose di vent'anni fa che io con cui vivo sono presenti quindi questo zaino è anche un contenitore diciamo dei miei ricordi molto importanti soprattutto con l'età diciamo e poi è anche il mio modo di rappresentare me stesso all'esterno io ho una presenza digitale precisa che è importante ma perché? perché io non vado sui social prendendomi un picco spazio in un luogo costruito da altri io mi costruisco la mia presenza sul mio sito sono io che stabilisco come apparire cosa far apparire e non sono vincolato eccetera in un contesto ecco io credo che queste tre dimensioni la schermizzazione lo zaino e naturalmente le soft skills saranno gli ingredienti io reputo più importanti dei futuri leader per poter cavalcare questa rivoluzione che vedrà il digitale come elemento fondamentale ma anche questo problema della mobilità che farà sì che noi dovremmo essere sempre più abituati a lavorare per lunghi periodi anche in ambiente remoto anche staccati non vedendo le persone allora credo che ci saranno queste ecco per chi volesse poi leggere ci sono un paio di libri recenti uno che ho scritto diciamo che ho curato di un altro a cui ho partecipato questi sono di Harvard dove ci sono alcune delle riflessioni che ho fatto soprattutto sull'importanza delle soft skills delle arti liberali nell'era del digitale ecco io mi fermerei qua spero di aver colto usato al meglio il tempo assegnato e quindi ridò la parola ai colleghi grazie molto Andrea per queste sollecitazioni per questi spunti molto interessanti sei partito dalla mobilità ridotta della rivoluzione digitale per approdare a questa idea del soft skill dell'uso dello schermo con questa parola forte della schermizzazione e questa simpatica icona immagine metafora dello zaino digitale veramente grazie passo la parola proprio per dialogare con te su questi temi a Renato Ruffini che è professore ordinario lo presento brevissimamente professore ordinario dell'organizzazione aziendale all'università statale di Milano insegna economia e organizzazione aziendale i suoi campi di ricerca sono la pubblica amministrazione la gestione delle risorse umane le relazioni sindacali il people management in generale soprattutto dal punto di vista delle relazioni interpersonali ma soprattutto di Renato mi piace dire che fa parte di quel drappello di 17 persone che diversi anni fa hanno costituito la scuola di economia civile l'hanno fondata e poi all'inizio è stato anche con noi in consiglio di amministrazione Renato a te la parola grazie grazie mille mi sentite tutto bene tendenzialmente no tendenzialmente in generale condivido un po' quello che è stato detto nei vari aspetti perché sono poi anche osservazioni che hanno delle loro appunto basi specifiche sia sia di analisi che di attuali ecco quindi quello che vorrei tentare di fare è semplicemente approfondire seguire la traccia che Andrea Granelli ha sviluppato e quindi cercare di approfondirla per dare ulteriori contenuti a quelli che ha già dato al tema appunto soft skills schermatizzazione design attraverso anche un pensiero critico diciamo che è quello mio sostanzialmente quindi diciamo partiamo segue un po' la sua struttura ripeto che appunto condivide quello del tema della mobilità il tema di rivoluzione digitale e il tema del che cosa bisogna fare quindi le tre parole chiave sul primo aspetto mobilità ridotta sicuramente diciamo c'è tutta una serie di dinamiche che non è già nato prima in qualche modo che il coronavirus ha sviluppato già le imprese per motivi sia di costi soprattutto costi diciamo delle strutture immobiliari degli uffici sia per motivi di sostenibilità ambientale hanno e di sostituzioni anche di controllo hanno favorito forme di smart working la pubblica amministrazione era più retrata e adesso piccola parentesi al di là delle provocazioni di Chino che sono non accettabili a mio avviso gran parte delle amministrazioni pubbliche hanno attivato hanno fortemente accelerato lo smart working smart working tra virgolette insomma nel momento in cui si era in difficoltà l'intelligenza di questo lavoro non era tantissima però hanno creato tutte le infrastrutture e le sperimentazioni della possibilità di lavorare a distanza a questo punto però uno secondo me è una cosa su cui mi sono spesso interrogato e chiedersi sia in questa fase specifica sia più in generale che cosa significa dal punto di vista delle relazioni lavorare a distanza al di là appunto del controllo che posso fare attraverso i programmi che la produttività sicuramente può aumentare soprattutto su lavori che sono strutturati e standardizzati io un po' mi sono interrogato a me è capitato proprio in questo periodo due cose sia di leggere un articolo interessante sulla rivista di Academy of Management sia di vivere direttamente una situazione piuttosto interessante che era appunto in quel del comune di Bergamo fare una una riunione con tutti i dipendenti i dipendenti dirigenti dipendenti hanno un'abitudine al comune di Bergamo da 4-5 anni di fare dei momenti di incontro liminali cioè fuori orario e fuori sede dove si confrontano su cose tecniche ma poi alla fine fanno anche Baldoria tra virgolette Baldoria in senso buono un meccanismo rituale dove alla fine c'è magari una cena cose di questo tipo cucinano gli uni per gli altri servono gli uni agli altri quindi hanno attivato forti intense relazioni sociali quando hanno fatto questo incontro l'8 di marzo lo ricordo ancora online quello che mi è capitato infanto a partecipanti anch'io come gli altri è di vedere come nell'ambito della questa riunione online ci sono stati dei momenti fortemente emotivi ma qualche lacrima per intenderci molti sorrisi pur in un ambito in cui molti colleghi non assenti perché malati di covid e molti parenti fortunati di dipendenti deceduti madri e in qualche caso madri e padri che cosa è accaduto mi sono interrogato un po' su questo aspetto e secondo me io un po' ho pensato che le dinamiche che ci sono tra la tecnologia che rende comunque rendeci schiavi come diceva e le dinamiche interpersonali hanno necessità di mixarsi che cosa significa che l'una senza l'altra non si alimentano in modo adeguato quindi loro sono già abituati a vedersi e come si sono visti è stato un modo corretto di come vedersi e questo è stato un'esperienza forse che è capitata anche in molte altre situazioni al tempo del coronavirus che cosa intendo intendo che il concetto di distanziamento sociale che è in sé negativo perché stai lontano dagli altri gli altri ti infettano homo hominis virus cose di questo tipo in realtà se girato se sviluppato in un ambito più corretto può essere se noi lo decliniamo non in distanziamento sociale o appunto altri termini che possono essere parafasati della tecnologia gli diamo il termine che usava questa professoressa dell'articolo che ho letto di caring connecting quindi l'attenzione e la cura nel connetterci si attivano delle dinamiche interpersonali significative caring connecting cosa significa sostanzialmente significa per esempio non dimenticare mai l'inclusione degli altri com'è l'inclusione l'inclusione è capitata ricordarsi sempre dell'importanza e dell'unicità dei costituenti individuali e quindi coltivare il senso di appartenenza delle collettività anche a distanza e quindi anche trovare modi di avvicinarsi per esempio in molte situazioni e quello che è capitato è che in questa situazione col coronavirus le imprese hanno lanciato hanno fatto delle cose per i loro operatori per esempio hanno come dire molti casi hanno dichiarato giorni di malattia per esempio nel mese in cui stavano a casa parlo anche di imprese non solo di pubblicità per essere chiaro oppure hanno mandato a casa del materiale necessario per fare il lavoro meglio nel caso specifico per esempio nel caso di Bergamo alla fine delle riunioni facevano sempre dei giochi gli hanno fatti anche a distanza dei giochi sociali e chi ha vinto gli è arrivato una torta di cioccolato a casa questi meccanismi relazionali per cui uno si prende un po' cura dell'altro c'è sempre il meccanismo di copresenza quindi il secondo elemento importante quindi l'idea che tutti gli strumenti che ti metto a disposizione tutti i medi informatici sono comunque importanti per anche stare comunque insieme non solo per lavorare quindi non so quelle cose un po' stupide se vogliamo ma che se fatte con l'animo giusto sono anche importanti degli aperitivi a distanza dei coffee break fatti comunque online per ricordarci piccoli momenti rituali che facciamo in azienda cose di questo tipo quindi comunque un elemento in cui l'idea che lo schermo non scherma ecco usando la parafrasi di prima quindi bucchiamo lo schermo se riusciamo a confondere la dimensione la copresenza anche a distanza come se fosse non virtuale e la vitalità la vitalità il terzo elemento significa appunto nel momento in cui ci confrontiamo avere anche delle dinamiche relazionali significative anche un po' scherzose un po' emotive torno all'esempio di prima il gioco a distanza è ovvio che devo cambiare il tipo di gioco sociale perché non posso fare un risico ok forse sì non lo so però altri giochi che poi c'erano c'era un esperto di giochi quindi l'ha attivati sono tutti elementi importanti per comunque appunto fare delle risate cose di questo tipo in generale quello che credo in questi meccanismi e l'idea di fondo poi cercherò di perfezionare meglio è l'interazione tra i sistemi tecnologici e i sistemi relazionali che devono riuscire a fondersi in modo intelligente ho fatto qualche esempio dicendo non è più distanza ma è caring connecting però quindi non dimenticare mai l'aspetto umano anche se c'è lo schermo in questo modo lo schermo non scherma perché se no a me l'immagine che mi veniva prima quando Andrea ha rappresentato il concerto è che spesso mi capita di vedere gente che al concerto che filma col telefonino gli schermi allora francamente a certo punto a me come dire qualche conto non torna me ne sto caso invece di partecipare a questo grande rito liminale che è fisico però un esempio positivo adesso io non lo capisco bene però è positivo cioè sto vicino ma nello stesso tempo uso tecnologie e quindi moltiplico l'esperienza positiva io non mi ricordo più i concerti che andai da ragazzo per essere chiari mi ricordo il nome ma non mi ricordo la ragazza con cui ero ma non mi ricordo nient'altro però sostanzialmente se invece ho questo schermo che duplica le capacità può darsi che l'esperienza diventi più importante ancora più intensa ma ci deve essere l'elemento fisico la carne e il bit dobbiamo mettere insieme queste due cose però le due cose si mettono insieme se ha attenzione alla persona secondo passaggio andiamo di conseguenza rivoluzione digitale beh la rivoluzione adesso non perché qualcuno diceva che l'impresa 4.0 fosse la rivoluzione la quarta rivoluzione è un insieme di tecnologie messi insieme non è la quarta rivoluzione bisogna capire dove sta come si chiama la 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 non per la gestiva otto invece che uno sostanzialmente bisogna capire dove sta il meccanismo di rivoluzionare cioè quello che fa sì che le dinamiche in qualche modo tecnologiche vadano oltre ehm treccani dice la rivoluzione la rivoluzione industriale è una trasformazione delle strutture produttive e sociali determinate da formazione di nuove tecnologie una nuova tecnologia quindi cambia i sistemi produttivi e cambia anche i sistemi sociali quindi va oltre singolo la singola imprese cambia il sistema sociale probabilmente appunto l'internet delle cose è un meccanismo l'internet delle cose e altre dinamiche ha delle dimensioni sufficientemente rivoluzionare che la situazione adesso che ci è capitata i ragionamenti che stanno sviluppando si hanno un po' accelerato come scrive la prima Andrea e quali sono questi tipi di ragionamenti adesso io non voglio andare troppo oltre tempo fa ho scritto un articolo con un mio collega molto competente su questi temi sul tema della quarta rivoluzione industriale però di fondo i meccanismi sostanziali sono noi abbiamo dei sistemi di trasmissione che quindi sono pure tecnologie che connettono abilitano una dimensione di comunicazione mettono insieme i soggetti quindi hanno una valenza semantica che arrivano a un terzo livello però perché abilitano una dimensione organizzativa cioè mettere insieme le persone oggi i sistemi sono sempre più dati che producono dati quindi con i vari sistemi intelligenti che hanno un'abilità in sé potrebbe essere autonoma ma che in generale abilitano e fortificano non solo più la capacità di integrazione ma anche la capacità di produzione di innovazione di nuove forme di attività l'ho detta male non approfondisco più di tanto però la cosa fondamentale in cui voglio arrivare anche per non perdere troppo tempo sta nel fatto che queste dimensioni tecnologiche creano una forma di intelligenza nuova lo dico così vado alla sintesi del ragionamento se volete vi dico anche l'articolo però mentre avevamo un sistema in cui l'intelligenza è connetta l'intelligenza è la capacità di relazionare quindi noi l'intelligenza insieme di persone hanno un'intelligenza emergente molto maggiore del singolo trovano certi problemi molto grossi certe equazioni sono state risolte perché sono state messe sulla rete e tutti insieme le hanno risolte quindi noi abbiamo con lo sviluppo di una tecnologia l'intelligenza delle persone l'intelligenza emergente della relazione delle persone l'intelligenza che emerge dalle relazioni dei sistemi automatici dei sistemi informatici scusate quindi sostanzialmente l'idea dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale ma abbiamo anche ed è questo il meccanismo da scoprire l'intelligenza che si crea dell'interazione tra uomo e macchina e sistema questo modifica sostanzialmente tutti i giochi organizzativi perché modifica e si è già visto da anni le regole del gioco anche dei mercati perché non era mai successo ed è successo non è ancora stato analizzato fino in fondo secondo me la rivoluzione che hanno fatto le big dell'informatica per cui sostanzialmente vanno oltre i prosumer che diceva negli anni 80 Toffler gli operai diventano i clienti sono loro che progettano i sistemi che mandano avanti i marchi e tutto il resto quindi si cambia completamente il meccanismo di mercato i meccanismi produttivi interagendo tra soggetti e questa è una cosa molto importante che tipo di intelligenza viene fuori dobbiamo chiederci che tipo di intelligenza viene fuori con questi sistemi sarebbero mille esempi dal meccanismi di produzione autonoma tante cose però senza menarla troppo sostanzialmente l'idea che si crea un nuovo tipo di intelligenza tra i soggetti questo cosa fa e chiudo se ce la fai grazie si chiudo velocemente cosa fa questo meccanismo sostanzialmente fa sì che nelle imprese ci siano la necessità di fortissimo decentramento cioè la gerarchia proprio non dovrebbe esistere più fortissimo decentramento nei sistemi produttivi che oggi è possibile così come l'intero parabilità dell'attività quindi chiunque può intervenire a qualsiasi luogo significa che però i sistemi organizzativi sono sostanzialmente vecchi abbiamo delle regole del gioco che non sono quelle corrette del diritto del lavoro siamo ancora attaccati all'orario di lavoro e un funzionamento manageriale che si base tutto sommato ancora sulla gerarchia quindi come cambiare sicuramente il primo punto vado veloce insomma per il via dei tempi sicuramente il primo punto questo è il mio problema ideologico mi rifiuto di pensare che le persone debbano essere serventi alla produzione ok quindi se vogliamo che gli soft skills si sviluppino si devono sviluppare le persone in maniera libera perché devono essere devono avere capacità creative quello che vale oggi è la capacità creativa non pure la capacità produttiva che fanno altri quindi il primo elemento è un elemento la soft skills le competenze che diceva prima Granelli secondo me si creano se in un sistema organizzativo si gestiscono i soggetti in temi di libertà le capability vanno viste in temi di sen non in temi tipicamente manageriali comincio a avere dei dubbi che servono i manager per essere chiari un po' provocatori questo è un primo aspetto secondo me molto importante e quindi tutte le dinamiche che poi diceva lo zaino che cos'era lo zaino se io fossi interpreto il presente glielo chiedo ma cos'è lo zaino che ci ha raccontato Andrea è lui è lui è la sua esperienza è tutto il suo know-how che si è creato nella sua 50 anni circa credo di esistenza che ha portato avanti con tutto quel che c'è quello è il valore reale quindi lì che deve essere portato libero ma libero dentro un'impresa non libero come libero professionista è possibile questo questo ragionamento secondo me che va importante la schermatizzazione va fatta se si rompe lo schermo quindi si passa dalla mi difende al sistema mi connetto e ho cura nella connessione anche se su questa dimensione di distanza in questo caso io cosa faccio aumento le mie capacità di prendermi cura degli altri non le diminuisco quindi divento un po' positiva e non negativa l'ho detto un po' veloce ma insomma credo che bisogna andare è interessante andare nei meccanismi profondi di modifiche radicali dei sistemi produttivi e quindi di senso critico che si diceva deve essere sviluppato in maniera significativa ovviamente con le gradualità necessarie perché può darsi che i sistemi produttivi siano molto diversi faccio la battuta finale poi chiedo scusa della tempistica perché vedo Alberto un po' sostanzialmente è da capire se questo sistema noi abbiamo due alternative o l'individuo libero io avevo usato questa metafora avremmo o l'impresa vegetale o l'impresa superorganismo l'impresa vegetale è quella in cui unicellula rappresenta l'impresa nel suo insieme immaginiamoci tanti soggetti liberi che fanno comunque l'interesse del collettivo oppure le imprese invece il superorganismo l'alveare o il formicaio dove ogni singolo pezzo è un pezzo del sistema ma ha dei meccanismi automatici meno liberi di funzionamento mi fermo qui di questi spunti io non riprendo i tuoi punti perché c'è una domanda ci sono alcune considerazioni e così nel poco tempo che ci resta provo a offrirvi qualche altra qualche altro tema e ci scrive Gianmarco tutto molto interessante e stimolante in prospettiva tuttavia non pensate che i responsabili delle risorse umane avranno soprattutto la voglia oltre che la necessità di misurare la produttività degli smart workers ecco vi giro la domanda chi vuole tentare la risposta anche tutti e due Kim prego intanto inizio io ma diciamo penso che sia necessario il problema vero è che cosa è la produttività e che cosa è l'efficienza è chiaro che questo vorrà un problema di fiducia tra l'altro io credo che una delle grandi sfide del mondo del personale del mondo HR sarà anche lavorare su processi nuovi un conto è fare le cose che facevo e un conto è lavorare tipo sto sviluppando il clima diciamo aziendale il tema della psicologia è molto rilevante come lo misuro quando Einstein morì nel suo ufficio di Princeton fece una foto del suo ufficio di Princeton il giorno dopo che morì piccolo ufficio pieno di carte come ci aspettiamo all'ufficio di un creativo aveva una piccola cornice dove c'era scritto non tutto ciò che conta può essere contato che detto da un matematico ha un significato profondo questa idea che noi vogliamo sempre misurare tutto ci tranquillizza molto avere dei KPI ecco l'idea il cuore della fiducia sarà essere in grado di capire le performance senza necessariamente misurarle questo riporta e condivido il punto di Renato sul fatto che i manager sono in maggiore difficoltà oggi il problema dei veri manager oltre a essere dei veri people manager gente che motiva che aiuta le persone e le sviluppa nella dimensione personale e anche io posso controllare il lavoro di miei collaboratori se so come farlo se ho idee di come farlo lo delego e posso capire come dovrebbe essere fatto a che punto è se no passo il tempo a fare controlli alla cieca ed è un disastro solo che nel fisico era più facile vedevo le persone lavorare i capi si tranquillizzavano sul digitale non riesco a vedere ecco quindi questo tema aprirà un grandissimo tema di fiducia e che cosa vuol dire portare valore ma questo non c'entra neanche solo con lo smart work è proprio il tema vero in un mondo sempre più di macchine pensiamo all'artificial intelligence e ai dati dove le macchine faranno moltissimo la domanda è qual è il contributo dell'uomo questa è una sfida ad alzare la sticella e dire ma io che contributo do veramente ancora una volta condivido cioè bisogna o si cambia la logica o diventa difficile allora sicuramente con lo smart working dal punto di vista per esempio pubbliche amministrazioni dove il problema esiste con lo smart working controllano meglio appunto hanno dei mandati gli dicono cosa fare però questa è una logica gestionale che vecchia ok non dico che è sbagliata oggi si fa quello però il vero problema è dire ma la persona sa far bene le cose sa crescere è cresciuta perché il controllo non deve essere più controllo per verificare la prestazione ma il controllo per sviluppare le competenze perché queste sono le due dinamiche se no il controllo frena e non sviluppa questo è un primo dato perché o apprendi attraverso il controllo o non funziona è solo un strumento di potere che blocca questo è il primo dato secondo dato sostanzialmente in questi meccanismi dire come diceva prima ma noi adesso gli faccio fare le pratiche a casa ma quelle pratiche le deve fare lui in quel modo lì o ci sono altri modelli altre modalità e altri strumenti per farlo è chiaro che questi sono pensieri come dire non immediati se io sono un manager il problema oggi è che vado in un ufficio non domani però se sono un bravo manager sono schizofrenico penso all'oggi e guardo al domani dopodiché ognuno sceglie una domanda per Andrea nel contesto descritto qual è il ruolo per i leader? i leader in questo ruolo allora da una parte in un mondo sempre più incerto c'è proprio la capacità di envisioning di immaginarsi un futuro saperlo definire raccontare e guidare le risorse i grandi leader e soprattutto in momenti più caotici più ambigui dove nessuno vedeva la luce riescono a vedere oltre e non solo vedono oltre ma sanno anche rappresentare l'oltre a chi non lo vede l'oltre c'è un grande tema rappresentativo c'è le capacità metaforiche c'è un grande tema linguistico comunicativo dare forma a un oggetto che non si vede per far capire anche agli altri che il mondo è così quindi un grande ruolo proprio di guida e di intuizione naturalmente gente coraggiosa che deve rischiare di suo da un certo punto di vista mi viene in mente quella bellissima riflessione che fece tanti anni fa Foucault sull'uomo su colui che dice la verità il paresiastes lui diceva alla fine quello che dice la verità che è un leader secondo me non è solo uno che dice le cose giuste può dire anche cose sbagliate perché magari non lo sapeva può essere anche ipocrita magari di fronte una persona che non sta bene non gli dice tu non stai male c'è anche delle attenzioni qual era la differenza? coerenza tra logos e bios quello che diceva faceva ecco oggi servono figure integre che sono coerenti e si buttano secondo me queste saranno le doti cioè people management soprattutto nello smart work ci sarà un problema di depressione crescente c'è un tema gigantesco di case che non sono adatte a lavorarci famiglie dove non c'è una PAC sociale bambini piccoli che rendono le madri molto difficile lavorare quindi sono dei capitoli grandissimi allora secondo me il leader del futuro avrà questa capacità proprio di tirare fuori il meglio e di mantenere alto il termometro diciamo emotivo dovrà avere una grandissima intelligenza emotiva sostanzialmente l'accezione più piena di Goleman non quella di Goleman ne basta ma la capacità di leggere empaticamente dentro le persone anche tramite uno schermo che ti nasconde molto e riattivare emozioni e il fare sociale se posso anche qui su queste varie sono d'accordo ma aggiungerei nel senso che secondo me bisogna passare e qui in letteratura ormai è chiarissimo questo aspetto a una leadership post-eroica non c'è più l'idea di un uomo una donna spesso l'idea è proprio di un uomo peraltro comunque è di un uomo solo al comando che guida la visione porta avanti ma l'idea è di una leadership post-eroica sostanzialmente dove il leader è semplicemente è un soggetto che anima un sistema di relazioni quindi i gruppi sono autogestiti e sostanzialmente anche le forme di leader si fanno una valenza emozionale molto più forte mi sono divertito recentemente insieme a una collega di ragionare i termini dell'amore aristotelico nei sistemi organizzativi cioè l'agapico erotico fraterno ma sono queste le dinamiche reali perché se noi parliamo di persone noi dobbiamo riuscire senza manipolazioni a inserire l'umano nei sistemi produttivi e l'umano è fatto in primo luogo di rapporti d'amore sostanzialmente adesso nel senso appunto filosofico del termine e queste sono le dimensioni su cui occorre ragionare quindi il concetto di leader che possiamo avere non esiste perché o il sistema organizzativo diventa un sistema di sviluppo di lavoro libero dove le persone si manifestano e aumentano la loro capacità modificando se vogliamo pensare un futuro poi dopo ci pensiamo all'immediato ovviamente l'immediato è quello che conosciamo con tutte le sue contraddizioni però sostanzialmente mi diceva anche Andrea o ci facciamo un'idea del futuro ci diamo delle ipotesi se no interpretiamo sempre un nuovo col passato e ci saranno dei crash bestiali perché se io voglio chiedere di più alle persone gli chiedo di darsi da fare di crescere e lo strumentalizzo come se fosse il sistema italoristico quello che si è visto finora sulle tecnologie è tecnologizzare il terrorismo delle competenze sistemi di competenze sistemi di qualità è il terrorismo gelopato nell'aspetto soft ok e sono elementi del gorilla perché come diceva Gramsci è il gorilla maestrato dentro però c'è un filosofo o libero il filosofo non funziona niente perché il gorilla maestrato se gli chiedo l'anima ti mando poi giustamente a dire forse l'anima la uso da solo la uso per me stesso mancano solo quattro minuti ma vi lancio la sfida di un'ultima domanda con una battuta da 30 secondi a testa insomma abbiamo parlato molto di degli strumenti che possono servire e abbiamo visto che forse sono molto relegati anche ad aspetti personali ma se siamo una piccola impresa una piccola e una media impresa ecco da dove cominciare per cogliere il cairosso di questo momento una battuta a testa se volete farcela per chiudere grazie credo che su queste sfide le aziende piccole devono ritornare a fare insieme c'è uno spazio enorme del fare insieme anche su digitali io sono convinto che il digitale vada affrontato facendo un compito acquisto lavorando ripristinando il mondo dei confidi c'è tutto un fare insieme che non è solo solidaristico cioè il digitale premia economia di scala e di scopo c'è un beneficio enorme il potere negoziale eccetera quindi il suggerimento è mettiamoci insieme e riaffrontiamo insieme senza perdere identità ma aumentando diciamo le capacità negoziali di competenze che l'insieme ci aiuta a fare grazie Andrea Renato allora sicuramente uno può ragionare sugli scenari futuri perché quelle dinamiche ma poi c'è il presente come si diceva e il presente è fatto comunque di regole cogenti quindi capacità di finanziamento possibilità di sviluppo eccetera quindi se da un lato c'è la possibilità per le piccole imprese di avere delle buone idee poi alla fine cosa è capitato fino ad oggi chi aveva le buone imprese si attivava e qualcuno lo comprava ok quindi c'è il fenomeno della concentrazione nei sistemi economici è comunque forte non possiamo farci grosse illusioni quindi l'alternativa diventa o l'alternativa radicale vado da solo però ovviamente è una città alternativa molto se ragioniamo invece i sistemi produttivi credo anche lì il meccanismo di rete diventa quello fondamentale per la crescita perché comunque l'impresa poi dipende come vuol vivere se vuole stabilizzarsi voglio dire il bello è che ci sono tanti modi per campare tante nicchie tante situazioni sicuramente però la dimensione del creare delle condizioni di mettersi insieme come si diceva ad oggi sono più facilitanti rispetto al passato più facilitare e più facile avere delle idee vincenti più facile poterle diffondere il problema vero è che bisogna avere le infrastrutture economiche e tecniche per poterle mandare avanti e quindi in questo caso o ti comprano o tu cresci il modo per crescere e mettersi insieme agli altri queste sono dinamiche voglio dire del sistema delle regole del gioco per adesso perché non è il sistema quando ci saranno altri meccanismi può darci ci saranno altre forme di economia perché comunque il capitalismo è secoli contatti come dice qualcuno grazie grazie tanto Renato concludiamo qui il nostro dialogo su imprese che imparano e imprese che cambiano e quindi prima di tutto io ringrazio Andrea Granelli fondatore di Canso e Renato Ruffini della Statale di Milano e poi ringrazio tutti i partecipanti alla diretta che con le loro domande i commenti hanno arricchito questo scambio sia nella diretta che anche su Facebook e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a rendere possibile questo incontro e quindi la nuova scuola cooperativa di Federcasse e tutti i colleghi e gli amici della scuola di economia civile vi ricordo di mettervi in agenda il prossimo appuntamento dei dialoghi di economia civile ai tempi del Covid-19 che si terrà lunedì 29 maggio alle 18.30 e che potrete seguire in diretta sempre sulla pagina Facebook della scuola di economia civile in quell'occasione avremo con noi il professor Luigino Bruni e la professoressa Cristina Bicchieri per un dialogo sul tema Homo homini virus o Homo homini amicus ecco allora vi aspettiamo tutti lunedì prossimo alle 18.30 grazie ancora per la vostra partecipazione e a tutti un augurio di una buona serata grazie grazie mille grazie molte a presto ciao Renato ciao Alberto ciao